E con la mascotte di Realme alle mie spalle ragazzi do il benvenuto a questo nuovo Realme 12 Plus uno smartphone che va a completare una serie di dispositivi che già avevamo iniziato a vedere qualche settimana fa con il 12 Pro e il 12 Pro Plus adesso arrivano ancora a completare la line up il 12, 12 Plus e 12X tre dispositivi in una fascia più bassa del mercato ma che hanno anche loro un grosso potenziale lui il 12 Plus in mio possesso è la variante intermedia fra le tre che si colloca insomma nella fascia di prezzo più complicata quella ricchissima di tanti dispositivi e quindi avrà parecchio filo da torcere sigla e ve lo racconto Realme ragazzi potrebbe stare simpatica, antipatica, potrebbero piacervi o non piacervi i suoi prodotti ma una cosa è certa, la qualità costruttiva di tutti i suoi smartphone dal più economico al più costoso è sempre al top questo Realme 12 Plus 5G d'altronde ne è un esempio lampante riprende in parte le linee già viste nei modelli di fascia più alta ma anche nei vari Realme 11 della scorsa generazione con una cover in ecopelle di colore beige spezzata al centro da un dettaglio dorato che rompe la monotonia questo richiamo al dorato procede ovviamente lungo tutto il camera bump centrale oltre che sul frame laterale in alluminio con una finitura lucida piuttosto appariscente le forme che caratterizzano questo Realme 12 Plus 5G sono per lo più squadrate lo smartphone infatti si presenta con la classica forma mattonella con i soli quattro angoli laterali leggermente stondati mentre per il resto è tutto spigoloso personalmente ragazzi sapete che tendo a preferire un po' quei bordi arrotondati quei bordi un po' curvi sia sul retro che sul fronte perché personalmente ritengo il grip migliore non a caso insomma in questo dispositivo la maneggevolezza va un po' a mancare viste le dimensioni comunque piuttosto importanti pari a 162 x 75.4 x 7,87 mm e circa 190 grammi di peso perciò una buona ottimizzazione delle forme avrebbe sicuramente potuto modificare l'esperienza d'uso per inciso lui è certificato anche il P54 e per di più il brand garantisce un buon funzionamento del touchscreen anche in caso questo fosse bagnato frontalmente invece non si differenzia dalla gran parte degli smartphone attualmente in circolazione al centro in alto c'è il punch hole per la fotocamera mentre storano forse un po' i bordi lievemente asimmetrici che riducono un po' la superficie dello schermo non manca un sensore biometrico sotto lo schermo ben posizionato e soprattutto reattivo durante l'utilizzo in termini di ingressi e tasti lui è dotato del bilanciere del volume e del tasto di accensione sul lato destro carrello sim, connettore usb c e speaker in basso e secondo microfono e jack da 3.5 in alto parlando invece di display ragazzi è praticamente impossibile che mi sentiate pronunciare parole negative nei confronti degli smartphone di casa realme e questo realme 12 plus ancora una volta nella conferma realme è uno tra i brand che personalmente preferisco in quanto a qualità dei pannelli montati questo realme infatti ne monta uno da 6,67 pollici con risoluzione full HD plus refresh rate fino a 120 hertz che si aggiunge al touch sampling rate fino a 240 hertz altra chicca da non sottovalutare in termini puramente pratici posso dirvi che il display del nuovo realme 12 plus 5g garantisce una buona visuale in qualsiasi scenario di utilizzo i colori sono ben calibrati ma soprattutto la luminosità massima rilevata pari a circa 2000 nits di picco è sorprendente durante l'utilizzo in esterna la precisione colore è calibrata al 100 per cento con profilo p3 anche se tuttavia nelle impostazioni è possibile variare il profilo colore tra quattro preset predefiniti sottoposti al produttore e inoltre presente la certificazione hdr 10 plus ne ho verificato la presenza su youtube che riesce a riprodurre i contenuti in hdr ma non su netflix che invece non presenta tale compatibilità nonostante comunque la certificazione widevine l1 sia presente su questo modello a fare da padrone invece sotto la scocca di questo dispositivo è un chipset che abbiamo già visto nei dispositivi di fascia più alta della scorsa generazione lanciati dalla stessa realme mi riferisco naturalmente alla cpu di mediatek la il dimensity 7050 chipset piuttosto recente che faceva il suo debutto proprio sugli smartphone realme della precedente generazione il processore è realizzato con un processo produttivo a 6 nanometri e un octa core con frequenze fino a 2.6 gigahertz la memoria ram è pari a 8 o 12 gigabyte con possibilità di espansione dinamica fino a 12 gigabyte ulteriori mentre lo storage interno è da 256 o 512 con possibilità di espansione fino a 2 tera tramite micro sd chi ha avuto a che fare ragazzi in qualche modo magari in qualche centro commerciale o magari tramite amici di provare i dispositivi di realme nella precedente generazione ebbene non vedrà differenze di alcun tipo con quelli di questa nuova generazione l'esperienza d'uso è fluida e quasi tutto è paragonabile a smartphone di fascia superiore sebbene occasionalmente si possano riscontrare piccoli ritardi all'interno dell'interfaccia un fenomeno che può risultare inaspettato considerando l'affidabilità generale degli altri modelli di realme anche con giochi pesanti il realme 12 plus 5g non mostra difficoltà e gestisce bene le temperature anche in situazioni di stress e utilizzo intenso la presenza di nfc per i pagamenti card adesso il supporto al bluetooth 5.2 al wifi 5 alle reti 5g e quanto lo caratterizza invece a livello di connettività a differenza del realme 11 pro plus dello scorso anno con cui condivide tutto l'hardware qui non c'è il supporto alle reti wifi 6 disponibile invece nei due modelli più costosi della stessa serie 12 lanciata quest'anno e a fare da sfondo a tutto questo ben di dio ci pensa la realme UI 5.0 basata naturalmente su android 14 l'interfaccia grafica di realme 12 plus 5g si conferma estremamente fluida come dei modelli precedenti seppur le differenze rispetto alla UI 4.0 siano pressoché minime ancora una volta il software di realme si conferma tra i miei preferiti in assoluto nel panorama android l'unico difetto che però realme si porta dietro da anni e lo fa però a modelli alterni perché non tutti presentano questo problema è la quantità smisurata di applicazioni che vengono preinstallate a bordo del dispositivo non appena lo accendiamo come potete vedere nello screen che vi sto facendo vedere in questo momento la quantità di app che si sono preinstallate subito dopo la configurazione del dispositivo è stata tale da riempire una pagina intera del mio drawer delle applicazioni perciò veramente veramente troppe e ho dovuto perdere insomma qualche minuto per disinstallarle tutte quante perciò è una cosa abbastanza antipatica che secondo me realme potrebbe anche evitare di continuare a propinarci sui smartphone anche perché i numeri stanno salendo e sicuramente accordi commerciali di questo tipo diciamo se ne può fare sicuramente a meno ciò su cui maggiormente realme ha concentrato i suoi sforzi è il sistema fotografico implementato su questo modello seppur il camera bump lascia intendere che sono 4 le fotocamere installate a bordo in realtà ne sono solamente 3 la principale è la sony litia 600 da 50 megapixel f1.8 lente già vista su smartphone ben più costosi seguita poi da una ultra wide da 8 megapixel e da una lente di profondità da 2 megapixel frontalmente invece abbiamo i canonici 16 megapixel a disposizione per i nostri selfie al di là di tutti i tecnicismi che realme ha utilizzato per descrivere questo sistema fotografico posso dirvi che concretamente la fotocamera principale è tra le migliori presenti a bordo di smartphone di questa fascia di prezzo negli scatti realizzati di giorno ho notato una definizione davvero buona e dei colori realistici ben calibrati ad essere pignolo avrei desiderato degli scatti lievemente più luminosi rispetto a quanto ottenuto ma è un dettaglio da poco le foto ottenute in notturna da questa lente sono veramente buone a patto abbiate una mano ferma riuscirete a scattare delle ottime fotografie con una gestione delle luci pressoché perfetta io ho scattato alcune foto in piazza e nonostante la forte presenza di luci anche di tonalità diverse non ho mai notato delle stranezze nei risultati finali peccato invece per la solita lente ultra wide che fa perdere sempre di credibilità in diurna i risultati sono accettabili seppur siano evidenti le differenze di sera e con poca luce invece personalmente non sono rimasto pienamente soddisfatto dagli scatti che in molti scenari a mio parere sono decisamente inutilizzabili sempre la fotocamera primaria dà il meglio di sé nella modalità ritratto dove è specializzata anche qui grazie all'implementazione dell'intelligenza artificiale dopo lo scatto lo smartphone elabora l'immagine che ottiene così un bokeh perfetto e naturale allo stesso tempo senza rischiare di esagerare con lo scontorno virtuale che fa sempre un pessimo effetto accettabili anche i selfie che risultano essere adeguati per la fascia di prezzo anche se in giro ci sono smartphone che fanno sicuramente di meglio bene i video che possono essere registrati in 4k a 30 fps con stabilizzazione ottica un po' troppo duri i cambi di messa a fuoco tra un soggetto e l'altro ma nel complesso buona la qualità per quanto riguarda la batteria invece ragazzi 5000 mAh a disposizione vogliono dire soltanto una cosa circa due giorni di autonomia per gli utenti un po' più basilari che non mettono troppo sotto stress il dispositivo e naturalmente un giorno lo si riesce a coprire senza difficoltà con utilizzi un po' più stressanti ancora una volta ragazzi niente ricarica wireless su questo modello che però in compenso è capace di ricaricarsi fino a 67 watt con tempi relativamente brevi 0,50% in soli 19 minuti ma non a caso ragazzi Realme è una delle aziende che maggiormente investe in questo settore non a caso detiene davvero tanti primati in termini di velocità di ricarica ma parliamo di prezzi perché il dispositivo in questione Realme 12 Plus 5G arriva in Italia nelle versioni 8,256 e 12,512 giga rispettivamente al prezzo di 359 euro e 419 euro in occasione del lancio ragazzi Realme offre la possibilità di acquistare questo smartphone ad una cifra scontata di 299 euro per la versione ovviamente 8,256 cifra che è sicuramente molto interessante anche se come vi dicevo in apertura si colloca questo smartphone in una fascia di prezzo davvero complicata ricchissima di dispositivi e ricchissima di possibilità di scelta per l'utente perciò secondo me scegliere adesso è veramente complicato quel che posso dirvi è che lui ha un ottimo display ha un bel design seppur le dimensioni non siano secondo me ottimizzate nel migliore dei modi ed ha una buona fotocamera soprattutto il suo vero punto di forza appunto è proprio la fotocamera perciò ragazzi a voi la scelta e come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti ci vediamo in un prossimo video sempre qui su GIZ 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 Grazie a tutti.